Nel dibattito pubblico in Italia non volete affrontare la questione fondamentale e cioè che Israele se ne deve andare dai territori occupati. Israele occupa illegalmente i territori palestinesi. Io penso che questo sia l'unico modo di innalzare la qualità del dibattito pubblico in un paese di sconsiderati e fondamentalmente di ignoranti in materia di sicurezza internazionale. Purtroppo io vivo in un paese che ha queste caratteristiche e quindi le chiedo scusa se cerco di un po' di innalzare il livello del dibattito. Israele non può debellare il terrorismo e non può nemmeno debellare Hamas perché le caratteristiche di Gaza e le caratteristiche del terrorismo in Israele e in Palestina sono tali per cui Israele non ha questa possibilità. Il terrorismo non è a Gaza e non è nemmeno in Libano, è nei territori occupati. Ho moltissimi amici e colleghi ebrei e israeliani che hanno le mie stesse identiche idee.